C'è Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'è Natale ogni giorno sulla terra, perché Natale, oh fratello, è l'amore. Carissimi amici, carissimi collaboratori, carissimi benefattori, eccoci qui davanti alla grotta. Dobbiamo aspettare un attimo a mettere il bambino, ma l'occorrenza l'abbiamo già messo. Infatti Gesù è già nato da duemila anni. Però vorremmo augurarvi che Gesù nasca nei nostri cuori anche quest'anno, duemila ventidue. Che possa nascere nel cuore, sappiamo che la nascita di Gesù è il primo passo dell'amore di Dio verso l'umanità, un passo definitivo. Quindi auguriamo tutti proprio di riscoprire la virtù della speranza, anche nelle difficoltà, anche nei problemi che ci possono essere, sapere che il Signore è con noi. È nato duemila anni fa, ma resterà sempre con noi fino alla fine del mondo. Tanti auguri a tutti e buone feste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.